Fanno discutere le affermazioni di Daniele Belotti, assessore regionale all'urbanistica, apparse sul Corriere della Sera a Lombardia in merito alla sua indubbia presenza in occasione della visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, prevista a Bergamo per mercoledì 2 febbraio. Non so se ci sarò, sarà una parata grondante retorica, d'altro canto non mi si può chiedere di amare per forza una cosa che non sento mi appartenga. Io non tifo Italia, tifo Atalanta. Si cerca di smorzare i toni della vicenda, lo fa il Presidente della provincia Ettore Pirovano che non usa mezzi termini. Nessuna polemica, io sarò presente, ho già preparato il mio intervento che è stato inviato alla Segreteria del Quirinale insieme a quello del Sindaco Tentorio, siamo orgogliosi di esserci, tutte le cose che sono state dette sono delle stupidaggini, delle dabbenaggini, forse da qualcuno che sta cercando di strumentalizzare. I politici bergamaschi che forse non saranno qui sono solo quelli che sono nelle commissioni bicamerali, io non sono nella commissione bicamerale e tutti i miei colleghi martedì credo saranno qui perché, cioè martedì sera prenderanno un volo da Roma e mercoledì saranno qui a salutare il Presidente Napolitano. Tutto il resto è fuffa, come dicono Bergamo. Nel frattempo fervono i preparativi, tra le numerose presenze è anche una folta rappresentanza di studenti delle scuole bergamasche con la consulta provinciale studentesca di Bergamo in prima linea.